Se trovo una gold trooper, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporto a un creatore, inserite il codice creatore fort, così come vedete a schermo, poi accettate, e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok, oh, oh, ma che, ma che piccioni, ah, ma scusami, ma quanta gente si butta? Ma da quando, soprattutto? Oh, 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 è sceso. Calmi, 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 calmi. Sali, papà, sali, 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 papà, non ti trovo qua. Fa stata la voglia? La faccio torna io, non ti trovo qua. Oh, 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 attenzione, è proprio lui? Proprio lui? Oh, e vabbè, capita, frate, non fa niente, dai. Alla prossima ti va meglio. E vabbè, allora, l'azione c'era? L'azione, devo essere sincero, c'era, però l'esecuzione un po' meno, se devo essere... Proprio sincero. Quello che non c'è, in realtà, è anche la mia mira. Stara lasciando il fatto che lui avesse anche una mitraglietta, un fucile d'assalto con il quale mi avrebbe potuto tranquillamente menare. Scusatemi, volevo un po' trollare. Ok, io sento un buon numeretto di persone, in realtà. Credo che ci siano ancora sei persone, circa, all'esi. E la cosa non mi rincuora per niente. Questo mo' mi fa fare la stessa fine di quello di prima, no? Ok, una simile mi stava facendo fare, va bene, perfetto. Sto stare andando a me, sono sopravvissuto. Era col trooper? No, mi pare fosse Dark Bomber. Che era? Mi pare fosse Dark Bomber. Non è fucile poppa, non è fucile poppa! Vieni indietro, Forest! Indietro, Forest! Dammi qua, ciao! Via, sali! Mannaggia a me! Eh, sì, vabbè, questo del costruire così, di Bing ha tre. Scandalo. 72, dai, dai, Aura! Aura! Eh, dancia! La mia mira, certe volte però, eh! Inquietante! Da qua riesco a vedere qualcosa? Sicuramente non credo, credo che stiano sotto. Oh, Dio! Se riesco a vincere la sta partita senza trovare nessuna cool trooper. Cioè, per me è una vittoria morale più che una vittoria reale. L'ho detto sinceramente. Cioè, sono più contento così che... GG. Bella per te, frate, scusami, ma... Mi sono dovuto intromettere, era necessario. Belli questi noskin, voglio trovare tutti i noskin. Belli, calmi, tranquilli. E non se la prendono se li elimini. Belli freschi, capito? Buoni come la cioccolata calda da Halloween, frate, capito come... Ah, però qua c'è un tizio. Sta qua dentro. Vabbè. Volevo non nascondere lo spasso. Era un po' strano, mi sembrava una trappola, però... Non credo lo sia, quindi va bene. Ok, mo, calmi tutti. Perché io qua, nella zona del bunker, non la vedo così, diciamo, faitata. E questo mi fa pensare che io qui possa ritrovare un Iron Man. O sbaglio? No, c'è un nemico. Non c'è un Iron Man, c'è un nemico. Che mi sta in testa. Cavolo, mi sono fatto sentire. Oh, 95! Frate! Tu, fermo! Prima cosa, fermo! Non ti permete, non andartene! No, devo ricaricare! Mamma mia, che panico. Se perdevo perché dovevo ricaricare, era cringe. Ma questo quante splash aveva? C'aveva l'armamentario da capo. Mannaggia, va. Ecco perché laggavo, fra... Vabbè, oddio, ragazzi. Non è che mo' la connessione mi vada così bene, eh. Comunque mi ha laggato l'ottantino-settantino. Ok. Allora, bam! 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 E mannaggia, potevo dargli un botto di danno. Potevo fargli 150, però si sta curando. Devo ripartire da zero. Oh, è fuggito. Sorry, man. Perché è fuggito? Allora, è sceso giù. Si è preso il low ground. Pessima mossa. Devo capire però solo che giro si è fatto. Allora, deve essere caduto per forza. Il tempo per... Cioè, cambiare rotta non ce l'aveva. Ah, infatti è stato... Ah, non ha materiali! Hai capito? Non c'hai materiali, il caro mio! Eeeh, vabbè. E tu solo questo dovevi dirmi, frate. 39 di no-scoop. Vodo. Eh, frate. Vado, sono fatto malissimo. No, no. Dai, fammi entrare. Non posso mai entrare, raga, con sto ping. Con sto ping me lo posso pure scordare. Uh, ok. Va bene. Mossa stupida ma mi è andata bene. Mossa stupida ma mi è andata bene. Fortunatamente, ragazzoli, questi non sono ancora cool trooper. E non l'ho ancora trovata. Questo game potremmo portarciolo a casa. Io non mi voglio secciare. Che col cuore non voglio secciarmi. Però te prego. Fortnite, te prego. Dai. E te pare, vabbè. Ah. Ah, proprio lì. 47? Fatto maliuccio? Maliuccio? Come cavolo l'ho detto? Eh, allora, calmi tutti. Il problema è che anche lui si sta alzando. Mi fa piacere. Ok, sa giocare, sa giocare. Quindi cerchiamo di non farci distrarre. C'ha le armi forti. C'ha le armi forti. Quindi è pericoloso. Chiudiamoci. Non cade sul... Ah, infatti cade... Uh! Uh! Oh! Cade dove? Sorry. Sorry, dove è caduto? È il nostro carissimo amico? È godo, un po' godo. Non era... Non era sicuramente cool trooper. Di questo sono più che convinto. Eh, però, vorrei andarmelo a lootare. Ma non posso. Il problema è che sto senza materiali. Dovrei un po' lootare a questo punto. Cioè, un po' farmare. Vabbè. Su, lì. Che ansia sta vita! Che ansia! Questo ha lootato tutta quella roba. Ma forse non aveva manco materiali. Questo probabilmente neanche li aveva perché era sceso a lootare. Siamo attenti perché qua una cecchinata non è impossibile. Eh, infatti! Cioè, una cecchinata non è impossibile. Un tizio è stato eliminato in bassa a sinistra con una cecchinata. Avete visto? Cioè, nella feed più che altro. Non... È stato eliminato. Allora, mo calmi. Io direi. Mettiamoci una bella struttura, bella in ferro. Quel ferro bello rinforzato che... Non sfonda manco il lanciarazzi. Qua sopra. E restiamoci. Ok, va bene. Aiuto. Uh! Calmo! Stai calmo! Stai calmo! Calmo! Veramente io non stavo lì. Però... Ok. Uh! No, no, no. Subito. Subito, 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 subito. Bloccati! Trenta! Non mi ha colpito. Ma c'è ancora uno scudo. 24! Dai! Dai! Non lo vedo! C'ho solo il fucile a pompa. C'ho solo il fucile a pompa. Devo stare attento. Mannaggia. Lo faccio curare e non fa niente. Che non da male, frate. Non sono qui. Let's back and go! 170 fronte! Fronte! Fronte sulla glabella, frate! Muto! Ok, quindi, come se non fosse successo nulla. Dimmi che c'è una cesta qua. C'è una cesta qua. Però ho anche un tizio alla mia sinistra che pure ha una cesta. Ah, non è vero. Non avevo una cesta. Però è comunque una persona che a breve acchiapperà un'arma. Quindi, gentilmente, io ho solo 15 proiettili all'interno della mia arma. Direi di fare in flitta. Cioè, veramente, sono... Credo veramente tra le persone più sfortunate di Fortnite. Ma comunque direi di ignorare la cosa, di cercare di aprire questa porta, se me lo fanno fare, e di eliminare questo tipo. A posto. Grazie mille. Ho già finito i proiettili, ovviamente, all'interno della mitraglietta. Tutto nella norma, tanto ormai. A botta e siamo tutti più felici. Allora, ditemi ovviamente, come sempre, se trovo una gold trooper, perché tanto io non lo noto. Dovrei scendere qua sotto e dovrei trovarmi un nemico. Non è vero. Questo nemico non c'è. Perfetto. Questo nemico sta qui. È bella perché, fratele. Grazie mille per il tuo fucile a pompa. E andiamo avanti. Mo, sta un tizio che sta a fa' qua fuori, toretto, di Fast and Furious. Se gentilmente si fermasse un secondo. Eh, raga, ma qua l'esio sta a un botto a un botto di gente. Tengo due a destra, uno di fronte e un'altro a sinistra. Ok, 70, ovviamente. Oh, bobo, 70, non di più, perché nella mia vita più di 70 sto gioco non mi fa fare. Ah, il tizio sta scappando. No, 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 non deve scappare, non deve scappare, non deve scappare. Ok, GG, mi spiace per te, man, non ti offendere. Mi piglio questo e mi piglio questo. Ah, a parte che questo si è barricato qua sotto. Spero che non si metta, esatto, a costruire a prepotenza, perché tanto non potevo fare edit fight. Perché con questo ping io un edit fight non lo vincerò mai. C'ho 120, ragazzi, 120. Sento gli spari, ma non capisco da dove, immagino da qui. Che skin è? Che skin è? Che skin sei? Che skin sei? Ragazzi, ditemi che non è la versione alternativa della Ghoul Trooper. Sì, è la Ghoul. Mannuccio! Sì, è la versione alternativa della Ghoul Trooper.